Il tempo per un po' di musica è quella di Giovanni Bruno, chitarrista e musicista di potenza. Il suo video si intitola Flashback ed è stato realizzato in collaborazione con altri musicisti conosciuti su YouTube. Tra questi David Luong, un famoso musicista australiano di stanza a Sydney. Vediamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci ritroviamo come sempre domattina alle 7.30 e vi auguriamo una buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.